Buon pomeriggio! Buon pomeriggio con Simone Ripa e Manuela poi domani. Buona domenica insieme, questa è l'ultima puntata di Domenica insieme, poi si inizierà quella primavera con il calcio, quindi noi ce ne tiriamo fuori perché non so tu, ma tu col calcio come sei? Messo malissimo, con i calciatori no, con i calciatori no, con il calcio sono messo. E guarda, ero convinta di questa battuta. Se mi chiedi di calciatori non so tutto. Allora, allora, quindi ultima domenica insieme con tantissimi ospiti speciali e anche con tantissimi, tantissimi argomenti importanti perché ricordiamo che stasera c'è la notte degli Oscar, quindi sicuramente adesso faremo un bel blocco proprio su questo tema che riprende un po' quello che abbiamo iniziato il 28 gennaio con tanti ospiti e a questo punto guardiamo questo servizio. La notte degli Oscar 2023 è davvero vicinissima. La 95esima edizione dei premi più importanti del cinema andrà in onda tra poco. Saranno assegnati in base al voto di migliaia di addetti ai lavori che fanno parte dell'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. È impossibile fare scommesse su quello che succederà, ma la rosa dei favoriti già c'è e in alcune categorie i vincitori appaiono scontati. Cominciamo con il miglior film. Quello per il miglior film è il premio più importante assegnato e non dovrebbe riservare sorprese. Tutte le principali testate del settore scommettono che a vincere sarà Everything Everywhere All at Once, un film di fantascienza con protagonista una famiglia di immigrati cinesi che gestisce una lavanderia a gettoni negli Stati Uniti. Il film ha ottenuto 11 candidature agli Oscar, alcune testate danno poi al secondo posto niente di nuovo sul fronte occidentale, ma alcuni puntano anche su The Fablements di Spielberg. Anche sul probabile vincitore del premio per la miglior regia circola una certa sicurezza. I favoriti sono Daniel Kahn e Daniel Sheinhardt in Art e Daniels, ovvero i registi di Everything Everywhere All at Once. Sia il premio per il miglior attore che quello per la miglior attrice sono invece contesissimi. Nel primo caso potrebbe trattarsi di Austin Butler, che ha interpretato Elvis Presley in Elvis, o Brandon Fraser, che ha subito una grossa trasformazione fisica per interpretare un uomo obeso per The Whale di Darren Aronofsky. Per quanto riguarda il premio per la miglior attrice, la sfida sembra essere soltanto tra Cate Blanchett, nel ruolo della direttrice d'orchestra Lydia Tarr in Tarr, e Michelle Yeoh, carismatica protagonista, ancora una volta di Everything Everywhere All at Once. Poi c'è il premio per la miglior attrice non protagonista, qui è quasi impossibile fare pronostici. Quello per il miglior attore non protagonista invece è considerato scontato, tutti fanno il nome di Kee Wee Kwan. Non dovrebbero esserci sorprese per il miglior film internazionale e il miglior film d'animazione. Niente di nuovo sul fronte occidentale, adattamento del romanzo storico di Eric Maria Remarque è stato molto apprezzato. Pinocchio di Guglielmo del Toro è invece in testa a tutte le scommesse per il miglior film d'animazione. E questo era il servizio della nostra splendida Giulia Cavola, giornalista di Cusano Media Group. Infatti lo scorso 24 gennaio sono usciti i candidati dei film delle star in Lizza appunto per l'ambita statuetta. Ricordiamo che questa 95esima edizione si potrà seguire stasera dalle 23 e 15 proprio su Sky o su Nautica. La seguirai? Assolutamente no. Però non mi dai mai una soddisfazione. Ma no, ti spiego anche perché, perché io stasera lavoro. Dormi? No, no, lavoro. Anche perché finirà a pianso per le 5, 4, 5 del mattino. No, guarda, domani saprò quello che è accaduto. Infatti, infatti, già un po' Giulia ha detto un po' i pronostici, chi vincerà, chi è il favorito. Noi il 28 gennaio, come dicevo prima, abbiamo parlato degli Oscar insieme a tantissimi ospiti. Guardiamo un pezzettino così partiamo da quello. Allora, tra quelli che sono in grafica per il miglior film vi avrei scelto più che altro quelli che non sono in grafica purtroppo. Ma tra questi che ci sono io andrei per il miglior film a Gli spiriti dell'isola. Gli spiriti dell'isola. Assolutamente. Francesco? Mi trovo perfettamente d'accordo con me, fratelli. E ovviamente, fratelli, la cilla. Sempre in coppia. In questo caso sì, in questo caso sì. Valerio? Avatar. Avatar. Oddio, mi mi ha piaciuto tantissimo Avatar. Però non è una scelta così scontata perché molti l'hanno trovato purtroppo un po' banale, anche proprio nella trama. Però dopo ci arriviamo ad Avatar. Leonardo? Per me invece il film di Daniels rispetto agli altri è molto particolare. Poi vabbè, magari chi si vede il film se ne renderà conto. Però anche dal trailer che sembra tutto, non si capisca niente, ha una sua logica, che in realtà gioca con storie molto classiche. Secondo me ci riesce bene. Quindi forse è l'opera più estroversa, diciamo, tra queste. Con tutto che comunque anche gli spiriti dell'isola ho trovato un bel film, ma non è migliore di... Non è migliore. Allora, direi di partire dal primo, che abbiamo il trailer, niente di nuovo sul fronte occidentale. Mandiamo il trailer e poi vediamo chi ce ne parlerà. Invece che il trailer, noi presentiamo i nostri ospiti. Partiamo da Pier Carlo Fabi, esperto di cinema di Cusano Media Group e che ho tanto voluto. Pier, quanto ti ho voluto? Ma guarda, non lo so, però sono contentissimo di essere qua. Ci sei, ti ho voluto tanto. È il migliore, il migliore di cinema qua dentro e quindi dovevamo averlo per forza. Troppo buono. Poi ci è venuto a ritrovare Valerio Molinaro, sceneggiatore e anche scrittore. Ciao Valerio, come stai? Bene, grazie. Vi saluto e vi ringrazio per questo altro invito. Per noi è un onore. Vai, adesso tocca a te. E poi abbiamo due esperti del cinema, i fratelli Latilla, Gianmarco e Francesco, che sono attori, i registi, vi ho occupato un po' di tutto. Sì, sì, l'attore è solo mio fratello. Sempre questa cosa l'hai detto anche un'altra volta. È importante, è importante. Siamo anche un'altra cosa. Anche attore. Regista, attore. Vedi, vedi. Questi ci vogliono rubare il lavoro, io te lo dico. Lui è regista, attore, tu solo regista. E sceneggiatore. E abbiamo tutti e quattro, ma abbiamo anche un quinto ospite, che lo chiamo subito. Lui è in collegamento da casa e si chiama Manuel Matteucci. Anche lui è un attore, oltre che esperto di cinema. Ciao Manuel. Ciao, buon pomeriggio. È un piacere e un onore essere qui. Allora, abbiamo forse qualche ritorno che adesso Daniele Ricciuto in regia ci sistema subito, secondo me, perché la mano esperta di Daniele ci interessa ed è sempre utile, assolutamente. Quindi noi arriviamo a voi, abbiamo sentito un po' i vostri pronostici. Era il 28 gennaio, quindi è passato più di un mese. Io vorrei partire da chi non c'era, quindi Pierre, ti capita a te. Chi vince come miglior film quest'anno? Io credo che come miglior film quest'anno sia una partita abbastanza semplice. Ed è un po' a sorpresa, perché è un film che si è mosso nelle retrovie, e è un film, tra virgolette, molto commerciale, perché è una pellicola molto popolare, grandissimo successo. Non è un film d'autore, e ce ne sono tanti nella decina di film, però ha convinto quasi tutti, ha vinto qualsiasi cosa. Sto parlando di Everything Everywhere All At Once. Ha vinto il premio... È un film difficile, per me non scegli lingua stupendo. Pronunciarlo tutto insieme. Pronunciarlo così è veramente complicato. Solo per la pronuncia. Cioè io non lo farei vincere per questo, perché mi impappinerei. E' una presentazione. È lunghia. Perché è tutto emozionale. Di Oscar goes to everything. Lunghissimo. Però ha vinto qualsiasi cosa. Ha vinto il premio dei produttori, ha vinto i due registi, hanno vinto il premio al Directors Guild of America, e quindi stanno andando molto bene, e un po' veramente a sorpresa, negli ultimi mesi hanno convinto tutti. Ma tu sei d'accordo? Assolutamente no. Assolutamente no. Ma è ovvio che non è che assolutamente no, perché conoscendo Pier, io e lui, sai devi sapere che parliamo di cinema tutto il giorno, praticamente a redazione. È un piacere. No, finalmente, veramente, poi possiamo parlarne ogni tanto, anche perché poi lì si parla in redazione, parlano tanto di politica, alcuni di sport, di caraggio. Cinema, cultura, siamo in pochi. Ci togliono per lo sport, quindi vedi, alla fine proprio tutto torna. E quindi finalmente ne possiamo parlare di cinema. E chi vorresti che vincesse invece? Io, perché sono un nostalgico, romantico, io darei tutto a Spielberg. Anche il premio per il miglior fiore adagiato su una scrivania. A tutti i premi di dargli sia a Spielberg. Fabelman, per me è un film meraviglioso e insieme ad un altro film che purtroppo non è rientrato per motivi che magari dopo indagheremo nella decina, che è Babylon di David Chazelle. Guarda, abbiamo i fratelli di Babilon che sono veramente cattivissimi da questo punto di vista. Quindi oggi vi giuro che ne parliamo. Abbiamo pure il trailer, abbiamo tutto. Noi siamo gli avvocati di Daniel Chazelle. Difenderemo Babilon fino alla morte. Voglio una firma nel vostro studio legale. Assolutamente. Sono d'accordo. Allora, allora, quindi per te questo invece voi vi chiedo, siete ancora convinti della vostra prima scelta? Quindi per te era Avatar Valerio e per voi invece era Le Spiriti dell'Isola. Le Spiriti dell'Isola Per quello che vorresti, quello che vorresti. Sì, sì, no, no, io dico per quello che vorreste voi. Invece, chi dite, secondo me vince quel film lì. Alla fine credo di trovarmi d'accordo con... Pierre. Esatto. E tra l'altro Leonardo Castro l'altra volta l'aveva detto, era l'unico dei quattro che l'aveva detto. Poi anche dietro il film c'è anche una grande produzione che è la 24. E quello vuol dire molto? Beh, certo. Tutto. Diciamo che la 24... Ma la 24 è una produzione che ha creato sempre dei grandi film anche. Cioè, comunque ha messo su delle grandi opere come The Witch... Ah, beh, certo. Di... The Lighthouse. The Lighthouse. Che poi è lo stesso regista. Sì, esatto. Robert Heggers. Robert Heggers, sì, sì. Diciamo che la 24 sta facendo un piano strategico, diciamo così, utilizzando una metafora politica, dato che prima si parlava di questo. Cioè, un piano strategico davvero efficiente sul campo cinematografico e adesso anche lo stiamo vedendo con la zona Oscar. Negli anni, soprattutto dal 2014 in poi, The Witch è stato proprio lo scacco matto che è stato fatto... Bellissimo. ...al mondo del cinema, sì, indipendente americano, tramite il Sundance Film Festival. Dal lico Robert Heggers, la 24, che sia casa di produzione che distribuzione, e a volte le due cose le fa anche insieme, proprio per lo stesso film, fa tutte e due, e ha avuto una forza talmente grande che ha fagocitato proprio l'industria cinematografica. Adesso qui anche The Whale, con Brendan Fraser, quello di Darren Aronofsky. E infatti dopo ne parleremo perché lui è candidato come miglior attore protagonista, quindi adesso ci arriviamo. Dobbiamo dire che la 24 negli ultimi anni è esplosa tantissimo. Sommar, con tanti, 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 tanti film. Perciò non serve che un film sia eccellente? Ci vuole una produzione eccellente? No, penso che sia entrante. Per arrivare agli Oscar... No, perché volevo capire. Per arrivare agli Oscar sicuramente devi avere una grande produzione, ma anche una grande distribuzione. Eh. E per quanto riguarda il film che... Velocissimi ragazzi, così passa Valerio. Allora dico, per me, tra quelli che ci sono in gara, il miglior film, insomma, io in qualche modo lo darei probabilmente agli spiriti dell'isola, Quindi rimane la tua posizione. Sì, probabilmente sì, però se dovessero darlo a The Fable Man, insomma, io sarei molto d'accordo, sarei sì contento. Però io credo che qui ci sia una giocata particolare. Secondo me Everything, Everywhere, All at Once probabilmente riuscirà, credo sicuramente, a vincere la miglior regia. Non so se riuscirà a vincere addirittura il miglior film, ma diverse statuette tra le più ambite riuscirà a portarle a casa. Io credo che qui ci sia una questione analoga al 2019 con Roma di Alfonso Cuaron, dove alla fine fecero una giocata particolare che uscì alla fine fuori, Green Book. Sì, vabbè, però era quel film, diciamo, un po' facile, ma adesso ci arriviamo al film facile. Vai Valerio. Allora, la mia vuole essere una provocazione, ovviamente, l'altra volta con Avatar, anche se una piccola riserva sulla possibilità che possa vincere. Però ti dico, come abbiamo detto giustamente la notte degli Oscar, oltre a essere mera spettacolarizzazione della settima arte, è anche e soprattutto politica. E James Cameron, sapete meglio di me come è visto a Hollywood, no? Soprattutto ultimamente. Quindi cambio la risposta e ti dico anch'io gli spiriti dell'isola, però non è quello che avrei voluto. Quale vuoi? Lo vedremo tra pochino. Vabbè, hai già capito, hai già capito. Manuel Matteucci, vediamo se ti si sente bene. Ce l'abbiamo, Manuel, la Skype. Manuel. Ho tolto il Bluetooth, non so se è meglio così. Sì, sì, ci piace adesso, ci piace, non c'è il ritorno, ci piace. Allora, dici tu, chi vuoi che vince, o secondo te chi vince come miglior film? Beh, devo dire, io mi accodo agli altri, e poi io lo spererei molto negli spiriti dell'isola, che è in assoluto per me il film dell'anno, il mio film preferito. Purtroppo la vedo dura, io non credo che vincerà, visto anche, insomma, il successo di Everything, Everywhere, All at Once, insomma, che è abbastanza spropositato. Però continuo a sperare per il film di McDonagh, perché secondo me è il migliore, anche se non ho visto Tar, che credo sia anche quello candidato, quindi non li ho visti tutti. Però tra quelli che ho visto, il film dell'isola è il migliore che credo. Allora, allora, noi prima di arrivare ai film di quest'anno, volevo un attimo fare un escursus brevissimo sul film che ha vinto l'anno scorso, quindi 94esima edizione. Sto parlando di Coda, i segni del cuore, proprio un po' per riallacciarmi a quell'aspetto del film semplice, ovviamente tra virgolette, perché non è un film semplice. Guardiamo il trailer. Una persona terrorizzata dal canto non si scrive al coro. Rubi, sei fatta? Mi mettono ansia gli altri ragazzi. Sei la ragazza con la famiglia sorda? Interessante. Cosa farai l'anno prossimo? Lavorerò per mio padre. Rubi! Sai cantare? Conosci il Berkley College of Music? Hanno le borse di studio. Io non ho mai fatto niente senza la mia famiglia prima d'ora. Come ti senti quando canti? Lo stai trattenendo? Invece no! Invece sì! Viverà il mostro! Non posso restare con voi per il resto della mia vita. Tu hai questa vita perfetta e casa tua è una vera casa. Voi lavorate tutti insieme. Vi divertite. Anne. L'hai imparato su YouTube. Che c'è? Eccoci, eccoci. Allora, Pierre. È stato un colpo di scena. Sei sempre il primo a essere interrogato io. Perché per me è un onore averlo qua. Eppure accanto a me, capito? Me l'hanno messo accanto. Però lì c'è una portata di schiaffo, perché dovessi dire qualcosa di sbagliato. Beh, è stata un po' una sorpresa, non tanto se si ricordano quello che veniva ricordato prima, cioè il discorso relativo al fatto che quando noi parliamo di Hollywood noi non parliamo tantissimo di arte, come la concezione del cinema è molto diversa da quella che noi abbiamo in Europa e questo è un ragionamento che noi facciamo un po' fatica qui a capire pienamente. Io per spiegarlo faccio una metafora molto semplice. Quando noi lì parliamo di industria del cinema noi dobbiamo fare il discorso come se qui parlassimo della Fiat, per capirci in sostanza. È la stessa dinamica. Si muovono tanti soldi, c'è un'importanza centrale a livello politico e sociale di quell'industria, industria automobilistica da noi, industria automatografica da loro, e quindi di conseguenza un ragionamento esclusivo sulla qualità conta poco. L'anno scorso vinse Coda, perché era un film che comunque era stato molto popolare, era il remake di un film francese che aveva avuto tantissimo successo anche negli Stati Uniti, che era la famiglia Bélier, che noi abbiamo visto, ad esempio noi europei abbiamo visto più di Coda, probabilmente, ma il passaggio di Coda è stato qui da noi in Europa molto fugace, e di conseguenza fu un film che metteva d'accordo un pochino tutti, e sistemava un po' le cose. Un po' quello che credo succederà quest'anno con Everything Everywhere At Once. e posso fare il paragone con il film innominabile oggi, ma che vogliamo nominare tutti a tutti i costi, che è Babylon di Daniel Fraterla. Oh, ed è uscito! Ci siamo arrivati! Ma quello tocca a Latilla, non tocca a te! No, ma glielo lascio a letire, perché li sento agguerriti quanto me, quindi va benissimo. Dopo i fratelli Latilla sono andata il giorno dopo a guardarlo Babylon, perché ho detto devo vederlo. Io la sera stessa. E ti è piaciuto? Cioè, hanno messo, bellissimo, hanno messo un'ansia, i fratelli Latilla con Babylon, ho detto non possono averlo visto. E Babylon è un film che è molto facile da fraintendere, perché ad esempio, secondo me, è un omaggio anche quello... Guarda come sono fissati che devono parlare di Babylon! Eh, ma assolutamente sì, ma certo! Però è un film che dall'industria, in termini politici, è facilmente fraintendibile, e quindi odiato, perché letteralmente, possiamo dire, facendo una battuta, ma non tanto, scarica l'etame sull'industria del cinema in modo molto, molto pareggio. Ma prenderà il premio come titolo, almeno? Ma magari! Solo il titolo! Qualcosa, diamogli! Qualcosa glielo danno! Manuel! Speriamo almeno... Qualcuno! Almeno uno! Manuel! Manuel, fammi vedere se ci sei! Sì, sì, ci sono, ci sono! Io volevo chiedere perché le critiche ad oggi sono tantissime sulla notte degli Oscar, che tutti dicono che sono noiosi, e quindi la gente non li guarda più. Secondo te è vera questa critica? È vera, sì, sì. Soprattutto negli ultimi anni, insomma, gli Oscar sono sicuramente, soprattutto, un premio politico, che penso, dopo aver visto il vincitore dell'anno scorso, è abbastanza, insomma, sotto gli occhi di tutti. raramente la qualità artistica effettiva, che va detto anche, è difficile da capire, cioè mettere dei premi all'arte è sempre complesso, perché poi entra in gioco sicuramente anche un fattore personale, in dubbio, e quindi relativo. Detto questo, sì, diciamo che sono sempre più lunghe, sempre più noiose, perché cercano forzatamente di inserire dei discorsi anche giusti, ma che risultano forzati e che annoiano la gente, soprattutto che a parli sono dei multimiliardari, e quindi la gente, insomma, quando parlano di fame del mondo, multimiliardari, insomma, ovviamente è sempre un po'... è sempre un po'... Sì, sì, siamo di sparciare un po' con la nostra. Su quell'edizione di questa sera, tra l'altro c'è una questione da dire, la HBO ha detto che niente pace è forzata e manderà in onda l'ultimo episodio di una serie evento di quest'inizio del 2023, che è The Last of Us, che sta facendo record d'ascolti clamorosi, quindi sarà un, secondo me, faccio un pronostico facile, anche quest'edizione degli Oscar non se la vedrà nessuno negli Stati Uniti. Sì, sì, io guardo in genere per la prima mezz'ora, dopo un po'... E poi, perché per questione d'orario ti cala la palpebra quando ero in Italia, diciamo. Sì, sì, esatto, non è frizzante. Allora, allora, io a questo punto, torniamo a quest'anno, l'altra volta, il 28 gennaio, ancora mi ricordo la data, abbiamo praticamente analizzati tutti, guardiamo un secondo la grafica, Daniele, ci metto un secondo la grafica dei migliori film, ok? Siamo arrivati a Triangle of Sadness, adesso faccio un po' l'inglese, e ci mancava proprio l'ultimo ad analizzare Woman Talking, che ricordiamo che non è ancora uscito, però abbiamo un pezzettino di trailer, ce lo mandi? Era già tutto scritto, prima che succedesse. Potevamo voltarci indietro e seguire le briciole sul sentiero che portava alla violenza. Lo vedevamo ovunque. Il perdono fa parte della nostra fede, saremo costretti a lasciare la colonia se non perdoniamo quegli uomini. Nessuna di voi vuole sentire ragioni. Sappiamo che non ci siamo inventate queste aggressioni. Sappiamo che siamo doloranti e terrorizzate. Le donne, le donne. Eh sì, le donne, le donne. Piero, guarda, siccome Babylon tocca a loro, non ci scampa. Ma va benissimo. Allora, Woman Talking, due parole, sì, dicci qualcosa. Vi interessa la miglior sceneggiatura, perché Sara Polley è un'attrice che si è formata nel cinema indipendente da attrice, ha fatto tutta la cavetta possibile e immaginabile come sceneggiatrice, regista, per tutto anche quello che sappiamo, la questione politica, donne, Me Too, Time's Up e tutto quello che sappiamo c'è una risonanza e un'attenzione particolare che comincia ad esserci per fortuna nei confronti del cinema fatto da donne. Questo oltretutto è un film che ha già vinto agli Screen Actors Guild, quindi ai premi dati dal sindacato degli Sceneggiati, Writer's Guild, scusate. Sì. E quindi credo che vincerà e sarà anche un premio meritato. Non come miglior film, ovviamente. No, no. No, sceneggiatura sono d'accordo. Ma non l'hai visto? Sì, certo che ho visto. le donne che non vedo le cose sulle donne. Io non vedo gli uomini. Le cose sulle donne le vedo tutte. Quindi le donne, quindi hai cambiato adesso. No, le vedo perché sono belle. La prenderete esempio. È vero, è vero. Sono belle. Allora, mi sa che dobbiamo andare in pubblicità, fammi cenno, sì. Allora, andiamo in pubblicità qualche minuto, tre minuti massimo e dopo torniamo perché finalmente si parlerà di Babilone. E io esco. A tra poco. A tra poco.